Salerno, c'è Emanuel Buchmann, il campione nazionale di Germania, firma del corridore della Bora Argon. Manca la FPG, manca la Trek per quanto riguarda la serie di presentazioni, c'è l'applauso del pubblico per il corridore che fa la parte della Bora Argon. Merci beaucoup, merci. Grazie ragazzi. Vedo che Giacomo Rizzone è arrivato, c'è anche Eugenio Raffaci. Eugenio Rizzone è arrivato, c'è anche Eugenio Rizzone.